Del Gusto abbiamo fatto per la prima volta un nostro prodotto a base di pesce utilizzando la tinca di Ceresole che è sempre un presidio Cioè una pasta quindi ripiena? Una pasta ripiena, sempre un agnolotto del Pling che all'interno aveva il ripieno ottenuto dall'allaborazione di questa tinca che è delle zone di Ceresole E poi abbiamo fatto... L'avete lanciato al Salone del Gusto? Sì, sì È piaciuto? Sicuramente, sì, molto, molto, molto Ma rifarete? Eh, sicuramente, sì, sì, sì Un altro prodotto che abbiamo utilizzato sempre con dei prodotti, dei presidi è la gallina bionda Abbiamo... sono galline allevate a terra che noi trasformiamo facciamo sempre l'agnolotto del Pling mettiamo un 80% di ripieno di carne di gallina bionda La gallina bionda di dove è? È di Saluzzo Pardon, la gallina bianca è di Saluzzo, la gallina bionda è di Villanova Dasti Dasti, esattamente E quindi utilizziamo... Quindi c'è anche questo, diciamo, concerto con le altre province Sì, 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 sicuramente Cioè non ci fermiamo alcune ese, ma proprio... E la regionalità, quella che viene a galla Sì, 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 perché la nostra produzione poi viene distribuita in tutto il Piemonte quindi cerchiamo di soddisfare le varie esigenze dei negozianti per avere le tipicità dei loro luoghi, delle loro zone Poi abbiamo gli gnocchi, giusto? Gli gnocchi, gli gnocchi In questo caso li abbiamo fatti verdi con la ricotta e gli spinaci Ne abbiamo anche... abbiamo anche un prodotto tipico della valvaraita che è la raviolas ha una forma un po' particolare, un po' allungata e c'è il formaggio dentro, impastato C'è un tipo di pasta che si chiama la raviolas? Raviolas si chiama, sì, ed è tipico della valvaraita è una forma un po' particolare, è un gnocco molto allungato ecco, sarà lungo 2-3 centimetri, ha forma diffusa e questo è un prodotto citano che... Quindi raviolas è un nome proprio che deriva dal dialetto citano, dalla lingua anzi se mi sentono mi uccidono Esattamente, dalla lingua citana Esatto, e questo prodotto qua viene fatto con il tumin del mel che è tipico della zona della valvaraita ecco, il mele è una frazione della valvaraita Ah, invece io pensavo fosse il tumino del miele invece il mele è una frazione della valvaraita Esattamente, esattamente e quindi si impasta tutto questo insieme e si ottiene questo gnocchetto particolare poi si fanno anche gli gnocchi con farina e patate patate rigorosamente della Valle Belbo sempre un prodotto a denominazione della nostra zona Quindi voi avete questi rapporti c'è proprio una rete in un certo senso solidale costruita con altri produttori che sono sempre appartenenti allo slow food Sì, sì, esattamente Questa sinergia ci permette di trovare le materie prime migliori perché ovviamente per poter avere un risultato valido su un prodotto lavorato necessita di materie prime eccesse Quindi il salone del gusto per voi è stato veramente importante perché è riuscito a creare questa rete di cui abbiamo parlato Esattamente, sì, ha una doppia valenza perché riusciamo appunto a conoscere queste nuove realtà di produzioni molto particolari, molto valide, molto buone fare nuove conoscenze che comunque è forse lo spirito dello slow food con Terra Madre che è riuscita a radunare gli agricoltori di tutto il mondo e poi ovviamente a comunicare queste nostre sensazioni a tutto il pubblico Ti interrompo un attimo Qui vediamo sul monitor il sito vostro La Cucina delle Langhe perché voi siete appunto in internet e siete contattabili anche con email Esattamente Tra l'altro siete anche tecnologici perché non è da tutti essere così up to date Eh sì, bisogna cercare di comunque rimanere al passo Il sito è www.ilplin.it Esatto Quindi vi si può contattare con email, ho detto bene? Sì Iscrivendo a? A info-lacucinadelelanghe.com oppure andando direttamente sul sito perché c'è la sezione dei contatti dove si può lasciare direttamente un messaggio Sì, in ogni caso abbiamo detto voi vi relazionate con i venditori cioè con gli esercenti cioè quindi il singolo, il privato che voglia saperne di più può acquisire notizie scrivendovi Esattamente Però voi lo rimanderete agli esercizi commerciali in cui il vostro prodotto si può trovare se ho capito bene Esattamente, sì Sì, sì, sì Noi come dicevo appunto prima ci rivolgiamo più o meno a tutta la regione Piemonte siamo presenti in Piemonte in alcuni punti della Liguria e arriviamo un po' nella Lombardia fino al Milanese Senti, quanto aiuta il Salone del Gusto a farvi conoscere al di fuori dei confini del Piemonte? Cioè, si è detto che è una vetrina in realtà nazionale tant'è che al taglio del nastro c'era il ministro Galan quindi è chiaro che la manifestazione si colloca proprio sul piano italiano da nord a sud anche perché partecipano tutte quante le regioni E allora, che valore ha? Ma sicuramente ha un valore internazionale Addirittura internazionale? Sì, perché comunque grazie al fatto di coinvolgere come gli agricoltori di tutto il mondo Ci sono anche presidi internazionali poi c'è Terra Madre Esatto Negli ultimi anni ha una valenza sicuramente internazionale perché ci sono veramente anche tantissimi stranieri che partecipano a questo evento e vogliono conoscere non solo le produzioni italiane che sono veramente eccelse in tutte le nostre regioni perché non si può non mangiare bene in qualunque posto si vada in Italia però ci sono anche poi nella parte della zona internazionale delle cose veramente buone che arrivano da tutte le regioni